Parla tifoso napoletano. Abbiamo informazioni esclusive che sconvolgeranno la nostra comunità. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti per non perdere nessuna novità dal nostro amato club. Andiamo subito al dunque. Pare che il direttivo del Napoli possa aver già preso una decisione importante riguardo al nuovo allenatore. Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo, indica che tutto farebbe pensare alla scelta di Roberto De Zerbi. Esatto, De Zerbi potrebbe essere l'uomo che prenderà in mano le redini della nostra squadra. In questo processo di selezione sono emersi alcuni dettagli interessanti. Sappiamo che l'ex tecnico del Brighton De Zerbi inizialmente non era così entusiasta di subentrare al Napoli. Sembra che la sua preferenza fosse per la Premier League e il calcio inglese. Ora, ciò che è intrigante è che sembra che abbia cambiato idea. De Zerbi è completamente concentrato nel portare la nostra squadra alla gloria europea e nel rappresentare il club, a livello internazionale. Un cambiamento impressionante, non è vero? E l'altra notizia che vuoi sentire, su Antonio Conte. Sembra che la proposta fatta a Conte non sia stata accolta, il che ci lascia di fronte a un bivio. Quale sarà la prossima mossa del Napoli? E come vedrà De Laurentiis questa decisione? Bene, fan, siamo in una fase cruciale della scelta. La dirigenza sta lavorando duro per trovare l'allenatore perfetto per portare il Napoli alla grandezza. Roberto De Zerbi emerge come un candidato forte, nonostante le riserve iniziali. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di questa decisione. Zerbi sarebbe la scelta giusta? Conte potrebbe essere ancora al tavolo? Lascia i tuoi commenti qui sotto, condividi le tue opinioni, resta sintonizzato per aggiornamenti più interessanti. Come sempre, continuate a sostenere il nostro Napoli. Forza Napoli sempre!